Un saluto a tutti dalla voce di Bruno Pizzul. A richiesta andiamo a leggere la classifica di Serie D, Girone D, dopo la diciottesima giornata. In testa troviamo Gianna e Erminio con 41 punti, secondo Forlì con 33 punti, terzo Aglianese Calcio 1923, quarti a pari merito Carpi e Pistoiese 1921 con 30 punti. A seguire Real Forte Quarceta, San Maurese Mezzolara con 29 punti, Ravenna 1913 e Fanfulla 27 punti, Prato e United Riccione 24 punti, Crema 1908 23 punti, Corticella 22 punti, Correggese Calcio 1948, Sant'Angelo 19 punti, Lentigione Calcio 17 punti, Bagnolese 16 punti, Scandicci 1908 13 punti, Salso Maggiore Calcio chiude con 5 punti. Un saluto a tutti i tifosi d'Italia, è tutto molto bello!